Cesenatico Noir è una bellissima iniziativa, un festival letterario che da sette anni si svolge a Cesenatico e oggi è diventato non solo un appuntamento direi imprescindibile, ricercato, voluto, chiesto da parte dei turisti, ma è diventato un vero e proprio prodotto turistico, ogni anno aumentano le persone, gli appassionati di questo genere letterario, il cattivo dei fumetti, dei romanzi, gli indiani di Tex Wheeler. Andrea Corsini da grande farà diverse cose, ma adesso non le svelo.